il giocare in borsa vedete come non avere un'informazione può devastarti la vita ragazzi ho ricevuto un messaggio e ho deciso di leggervelo chiaramente non leggendo la persona che me l'ha mandato racchiude tutta una serie di paradigmi molto depotenziante e quindi ho voluto riprenderli con voi perché secondo me l'equazione è molto semplice i risultati che otteniamo nella vita sono i risultati delle nostre azioni che sono il risultato delle nostre decisioni che sono il risultato della nostra mentalità ok quindi questa è l'equazione generale e ho ricevuto un messaggio che va proprio a far capire che i risultati della nostra vita sono dati proprio da questa equazione e questo messaggio è proprio riguarda il titolo di questa diretta ovvero il fatto tutta una serie di paradigmi sul fare impresa in Italia sul fare le cose in Italia allora questa sorella mi ha scritto spero che tu e la tua famiglia state bene ho appena finito di vedere il video riguardo l'acquisto della casa con il mutuo e ho capito una serie di cose e poi mi ha ricordato il fatto che noi ci eravamo incontrati al GMI qualche anno fa e avevo accennato alla mia idea imprenditoriale e poi cos'è che mi ha scritto allora mi fa non so quanti anni sono ormai passati ed io sono sempre nella stessa posizione quindi partiamo dal risultato ok e non lo dico per giudicare mai questa persona perché assolutamente cioè il fatto anche di mettersi in discussione e fare delle domande è sintomo di maturità però ci sono delle cose che secondo me sono utili a più persone non so quanti anni sono ormai passati ed io sono sempre nella stessa posizione o peggio se mi confronto con il contenuto del video che hai postato ieri riguardo al comprare casa mi spiego meglio in linea generale sono d'accordo con il tuo pensiero tant'è che ho pensato che al massimo ne avrei presa una all'asta e mi sarei fatta prestare qualche soldo da qualche conoscente per sistemarla una cosa abbastanza impraticabile adesso e anche se lo fosse resta il fatto che non mi sembra logico mettere i soldi per avere quattro mure alla sa quanti altri bisognerà sempre metterne per mantenerla quindi non è assolutamente un investimento io vi dico già questa legge cioè se dovete farvi prestare soldi per comprare casa vuol dire che non potete permettervi casa ok e anche se volete anche metterla in affitto non conviene ok anche metterla in affitto non conviene ci sono altre tecniche tecniche del sub affitto eccetera eccetera che sono migliori del compro per mettere a reddito perché ragazzi se comprate a 100.000 per guadagnare 500 euro al mese cioè è un ROI del 0,5% cioè è pochissimo è pochissimo un ROI un ritorno sull'investimento il ROI è il ritorno sull'investimento ritorno sull'investimento del 0,5% è una è una cioè quasi è guadagnata quasi al ritmo dell'inflazione cioè capito adesso per esagerare però non è un investimento neanche metterla in affitto comunque andiamo avanti però devo dire che mio padre quello dell'immobiliare è stato un ottimo investimento in Marocco e ora giustamente sta facendo un po' di pressione affinché faccia mia la sua idea che abbiamo bisogno di una casa anche qui e allora cioè innanzitutto bisogna capire cos'è un buon un ottimo investimento cioè com'è che si valuta un buon investimento in maniera assoluta cioè un buon investimento è un investimento che come si misura perché 100.000 euro che ti danno 500-600 euro non è un buon investimento ok perché ha un ritorno sull'investimento troppo lontano e questo aumenta il rischio ok però andiamo avanti perché non è qui che non è qui che non è qui il problema vero ok il problema vero arriva fra poco e non ti nascondo che è successo un bel po' di volte che io mi sono messa a cercare casa stando ore e ore a leggere perizie a confrontare planimetrie eccetera eccetera va bene sa di fatto che sono sempre al punto di partenza attenzione sui risultati adesso andremo a vedere la mentalità che ha provocato questi risultati sa di fatto che sono sempre al punto di partenza anzi non capisco più il senso di continuare a risparmiare investire in azioni per me è come mettere i soldi in una macchina che poi te li mangia esattamente come farebbe un distributore automatico che poi non puoi neanche dargli un calcio o un pugno e questa è la prima credenza dei potenti cioè perché bisogna vedere l'investimento in azioni così non è così cioè quello è il giocare in borsa ok cioè vedete come alcun non avere un'informazione può devastarti la vita quello è il giocare in borsa giocare in borsa sì è questa cosa che stai dicendo ma investire in borsa con una strategia no investire in borsa con una strategia tu lo fai con una ragionevole certezza di guadagno che a livello statistico se tu hai la giusta strategia è è cioè l'azienda presso cui lavori ok e che ti dà lo stipendio ha la stessa probabilità di continuare a produrre reddito e fatturato di un eventuale investimento ben ponderato e ben calibrato in borsa ok però deve essere fatto bene è ovvio che se vuoi fare gli investimenti con l'80% di rendimento rischi di farti male però se stai su un profilo da 5-10% non dico che cioè è la strategia quella che dà il risultato ok in borsa non è il singolo investimento perché quello si chiama giocare in borsa e quello effettivamente è azzardo mi raccomando chi gioca in borsa non investe in borsa sono due sono due mestieri diversi chi gioca in borsa cosa dice dice ah cavolo scommetto su questa azienda quello è giocare in borsa e questo effettivamente è mettere soldi in una macchina che poi te li mangia però investire fai strategia diversifichi un settore e un settore che magari cresce alla decrescita di questo no? usi delle cose statistiche guardi gli storici cosa è successo quando è successo cioè guardi tutta una serie di cose metti un po' di azioni in delle aziende che crescono più velocemente in altre azioni in aziende che magari stanno più stabili daud dice rialzo ribasso sulle materie prime ferro rame sì però penso che tu ti stia parlando non del mercato azionario ma del mercato delle commodities che è un'altra è un'altra cosa ok anche lì cioè anche lì però quello è un campo minato ragazzi perché per esempio le futures sono un contratto per noi haram no? perché è un è uno strumento finanziario haram per noi quindi attenzione cioè l'investire in azioni è molto meno a meno che non investite in un'azienda che nell'Aineken che produce birra investire in azioni è molto meno un campo minato dal punto di vista del haram halel perché tu investi in aziende che producono valore sul mercato e guadagni in base a quanto guadagna l'azienda ok quindi il guadagno è proporzionale al valore creato sul mercato invece il trading non dico che è tutto haram però tanti strumenti finanziari che stanno sotto le varie strategie di trading che vengono insegnate sono basate su strumenti finanziari che sono scollegati dalla creazione di valore sul mercato e quindi a livello islamico ci sono tutta una serie di incompatibilità però questo non è il nostro argomento e non è tra virgolette diciamo il tema della Strong Beliver Academy ok poi cos'altro dice inoltre fare l'imprenditrice qui in Italia per me sembra un azzardo e ho l'impressione che chi lo fa deve essere tanto spigliato da raggirare le leggi senza farsi beccare altrimenti ti ritrovi peggio di come eri prima ok cioè adesso vi rendete conto di quanto può essere pericolosa una credenza del genere cioè quanto può essere pericoloso pensare che fare l'imprenditore d'Italia è un azzardo cioè praticamente ti massacri i risultati che puoi ottenere nella vita perché ragazzi a livello cioè a parte pochi lavori da dipendente nella maggior parte dei casi se uno vuole ottenere risultati finanziari che non siano lo stipendio nella maggior parte la strada maestra per il benessere economico e l'imprenditoria perché con il lavoro da dipendente ripeto la maggior parte dei casi non tiratemi fuori il tizio che si è laureato alla Bocconi e ha fatto carriera come nel mondo della finanza eccetera eccetera perché sto parlando statisticamente a parte che la fatica che ha fatto quel tizio per arrivare dove è arrivato fa in meno fatica a fare l'imprenditore non dico mediocre però un attimo sopra la media ok se fai l'imprenditore un attimo sopra la media guadagni quanto quello senza il mazzo che si è fatto ora non vi sto dicendo l'imprenditoria è una scorciatoia perché chiunque abbia fatto un po' di impresa verrebbe a sbugiardarmi ed è così però è una credenza molto depotenziante questa qui per chi ve l'ha detto che qui in Italia sembra un azzardo cos'è che succede in Italia qual è il problema in Italia per cui è un azzardo in Italia c'è clienti che devono comprare che hanno delle esigenze se tu crei un prodotto un servizio che ci sono dei clienti disposti a pagarlo cos'è che cambia in Italia le tasse vabbè è meglio adesso so che fa male ma io mi lamento delle tasse Vincenzo lo sa che gli rompo le scatole no? che oggi abbiamo anche discusso oggi e ieri sulle tasse che lui lavora all'agenzia delle entrate però le tasse ragazzi non possono essere il deterrente in Italia uno dei problemi grossi sono le tasse ok è meglio guadagnare cioè pagare 50% su 100.000 euro e tenersi 50.000 euro in tasca oppure farsi il mazzo per portarsi a casa 18.000 euro 20.000 euro cioè va bene è vero che gli dai 50% e rompe un po' le scatole la cosa non è il 50% cioè io sto esagerando però piuttosto cioè se l'azienda funziona è vero è più difficile che cresca questo sì in Italia un'azienda fa più fatica a crescere ma se l'idea ha senso e l'organizzi bene e progetti un'azienda con la testa anche in Italia sta in piedi ripeto so che magari in una che ne so in in America o in UK che vai a un livello di tassazione molto minore puoi reinvestire più velocemente per cui cresci molto più velocemente ok però tra il in UK si va più veloci che qui e il dire non apro in Italia perché è un azzardo c'è un po' di c'è un po' di acqua che passa tra questi due tra questi due tra questi due estremi ok e questo è il primo elemento il secondo elemento è deve essere tanto spigliato da raggirare le leggi senza farsi beccare sì la burocrazia rallenta è vero è vero però ci sono aziende in crescita adesso ragazzi non state dietro ai telegiornali e alle chiacchiere da bar guardate i numeri cioè l'azienda l'Italia per come la state raccontando è collassata non è che sta collassata è già collassata no? è già collassata l'azienda per come la state l'Italia per come la state raccontando c'è tutti questi pirla che hanno le aziende che crescono cioè cos'è cos'è che cos'è che stanno facendo ma poi io perché in realtà io sono imprenditore vuol dire che io raggiro le leggi senza farmi beccare no? non è così ragazzi non è così è più è più lenta il processo di crescita questo è il problema dell'Italia è più lento il processo di crescita perché? perché lo stato ti ciuccia tanti soldi ha tante burocrazie per cui rallenta ma tra il dire lentezza e il dire impossibile e un azzardo c'è tanta differenza ok? anche la cosa dello spigliato tanti ragazzi che tanti ragazzi che arrivano imprenditori trascendentale mi dicono l'imprenditore deve essere un bravo venditore io non so vendere l'imprenditore deve essere un bravo venditore è vero deve essere uno capace a vendere perché comunque deve saper vendere la propria idea al mercato deve saperla vendere ai suoi dipendenti per coinvolgerli deve saper coinvolgere i finanziatori deve fare tutta una serie di cose e questo è vero però dall'altra parte dall'altra parte è anche vero che la vendita si può imparare il problema qual è? il problema è che il venditore in Italia è visto come quello con la faccia tosta e la parlantina vedete quante volte mi blocco io quando parlo? no? quante volte mi blocco quante volte mi vanno via le idee eccetera eccetera vi assicuro che io non cioè io alle superiori le interrogazioni erano il mio incubo cosa è successo? è successo che io mi sono allenato cioè mi sono fatto meno seghe mentali e ho deciso che quella roba lì si può imparare ho parlato un po' in pubblico al GMI ho imparato a fare ho fatto un po' di traduzione del giumo dal palco e vi giuro tremavo così come una foglia no? leggendo leggendo dal cellulare tutto sudato scivolavano gli occhiali per il sudore poi a un certo punto ho presentato qualche cosetta cioè ho cominciato a fare qualche qualche lavoro di intermediazione quella e quindi nel tempo ho allenato la competenza ma non è sta roba mistica non sono partito che sapevo parlare no? sì esatto Ussema il venditore è visto come quello che ti vuole fregare da una parte c'è la parlantina e la parlantina non è indispensabile ecco cioè se tu sai dire le parole giuste e hai un non le parole giuste se hai un prodotto un servizio progettato bene ok? e sai la teoria e sai relazionarti con una persona in maniera normale riesci a vendere se non lo sai fare ti alleni a farlo cioè questa mentalità dell'allenamento è una mentalità importante sei una persona che sa parlare poco in pubblico impara a farlo indovina come si fa provando provando in ambienti più sicuri poi sempre più scoperto eccetera eccetera ok? quindi molti ragazzi che vengono ai imprenditori trascendentali si candidano dicono eh ma io non sono portato per vendere e vabbè l'alleniamo noi abbiamo un processo di vendita andiamo a scomporre la vendita in più in più di un in più pezzi finché in qualche modo poi alla fine uno si ritrova che sa vendere ok? ma aiuta molto la parlantina diciamoci la verità ma ragazzi non sto dicendo di no ma la parlantina cos'è? cos'è la parlantina? davvero cos'è la parlantina? ci sono ragazzi del mio staff che hanno una parlantina migliore della mia ma io vendo di più di loro se ci mettiamo a fare una gara io quando io ho fatto il direttore commerciale e vi assicuro che avevo venditori sotto di me che erano più tagliati di me avevo dei napoletani dei che erano tagliati venivano dalla strada gente immobiliare e robe così e vi assicuro che ero io a insegnare a loro la vendita non loro a me la parlantina non vuol dire niente anzi anzi a volte avere quel che ti blocchi adesso livello di vendita avere quella roba che ti blocchi ti fa anche apparire un attimo più sincero ci sono dei venditori avanzati che ti insegnano a fare il tono debole a fare il tono come si può non sto facendo a me proprio vanno via le parole che fanno il tono si chiama comunicazione debole ed è una tecnica avanzata perché perché se tu parli così sembri più sincero rispetto a quello che va come un treno e c'ha sempre la battuta pronta ok per certi è una teoria ha i suoi pro i suoi contro io preferisco che ognuno parli con naturalezza però per farvi capire come non esiste solo una versione io avevo dei colleghi di lavoro quando facevo lavoravo in ufficio commerciale avevo un collega di lavoro che era di una calma era di diceva le parole misurate diceva le parole misuratissime no? Rabach che è uno che ne sa di vendita dice il venditore del 2021 deve avere un bagaglio di skills molto più ampio negli anni 90 bastava solo sapersi porre al giorno d'oggi è diverso è vero è vero e questa cosa qui in realtà è un vantaggio perché perché mentre una volta soprattutto in Italia poi ma per una questione di credenze no? mentre una volta c'era quello che si sapeva oggi visto che serve molto di più è molto più importante essere delle persone che sanno ragionare e sanno tra virgolette mettere giù una strategia di comunicazione rispetto a una persona che ha la lingua che va più veloce del cervello ok? oggi è molto più importante avere un attimino una capacità di ragionare in anticipo su come può svilupparsi la conversazione e come canalizzarla in una direzione o nell'altra ok? questo è molto più importante poi certe cose chiaramente se uno le fa da anni non ci pensa neanche più no? se uno le cose le fa da anni non ci pensa neanche più però oggi come dice giustamente servono altre skills che non sono solo la parlantina il sapersi porre c'è avere la faccia tosta no? ci sono altre skills ok? quindi altra cosa che bisogna smontare è questa cosa qui che bisogna essere tanto spigliati da raggirare le leggi altrimenti ti ritrovi peggio come mi riuscì prima questa è una roba falsa l'essere spigliato si diventa ok? si diventa è sicuro che io ero un tontolone ok? io ero un tontolone sei quello che io ero un nerd da videogiochi figurati che esperienza di vita avevo ok? però a forza di stangate sui denti uno le impara le cose e diventi tagliato cioè non è che si nasce tagliati poi per carità ci sono i predisposti però adesso non è che stiamo giocando ad essere i primi del mondo stiamo giocando a migliorare la propria situazione e tra l'essere tontolone cioè questa sorella ci dice sono ancora la situazione di prima si vede che è una situazione in cui non è completamente soddisfatta no? tra il dire è un azzardo e rimango nella mia situazione e dire vabbè imparo anche se non divento il migliore del mondo però almeno migliora la mia condizione forse è meglio la seconda opzione ragazzi quindi mi scrive come vedi continuo a fossilizzarmi nella stessa situazione eppure credo di avere un certo fiuto per le buone idee imprenditoriali in realtà anche in questo c'è un c'è una credenza limitante che sembra potenziante questa cosa del fiuto per le buone idee imprenditoriali è vero esiste un certo fiuto però questa cosa qui va ad alimentare lo schema mentale delle cose o ce le hai o non ce le hai noi ragazzi abbiamo un cervello che è una macchina meravigliosa è una macchina meravigliosa nel senso che gli dai tanti input li elabora e dopo un po' sviluppa una cosa che si chiama l'intuito ma l'intuito lo sviluppa in base a input ed esperienze per questa cosa del fiuto non è che o ce l'hai ci nasci o no è una roba magari qualcuno può avere la predisposizione ma perché è nato in un ambiente imprenditoriale eccetera eccetera però è comunque coltivabile per cui non nascondetevi dietro alle cose da predisposizione ripeto non sto negando le predisposizioni ma sto dicendo che per ottenere i risultati non bisogna per forza essere il talento dei talenti bisogna semplicemente capire le cose e personalmente al fiuto imprenditoriale preferisco e questo è quello che insegno ai ragazzi dell'academy preferisco una mentalità scientifica di test no testare in maniera scientifica le proprie idee non mi sembra che questa idea tira mi butto ma ok ho un'idea è basata su una serie di presupposti di supposizioni ogni idea è basata su supposizioni ragazzi andiamo a testare scientificamente in x step io c'ho proprio un metodo che insegno ai ragazzi in due tre quattro step l'idea andiamo a vedere se c'è un'utenza che reagisce andiamo a vedere se questa utenza apre il portafoglio con un altro test andiamo a vedere se questa utenza apre abbastanza il portafoglio da rendere l'idea sostenibile l'azienda sostenibile e via e questa è la prima idea poi la seconda perché di solito ci sono più 5-6 idee su cui si basa un'azienda no? preferi è meglio avere un approccio scientifico siamo nell'era dell'informazione del realm no? è meglio avere un approccio scientifico basato su step rispetto al fiuto per le buone idee imprenditoriali ok? lo so che sembra che mi sto impuntando ok? con la ragazza però la verità è che io so perché faccio sto lavoro da tanto tempo che dietro alla mentalità del fiuto per le idee imprenditoriali c'è la mentalità del sei predisposto o non sei predisposto e fai le cose solo se ce le hai dentro ok? e infatti l'ha dimostrato nei eh eh anche se l'ha dimostrato infatti l'ha dimostrato nei messaggi precedenti e poi cos'altro cos'altro dice grazie alla mamma Shalha visto? grazie alla mamma berbera penso di aver ereditato alhamdulillah anche una buona gestione della finanza personale vedete che sono tutti paradigmi legati a predisposizione ereditarietà non c'è la non c'è la mentalità delle cose si imparano o si allena magari se glielo dici ti dice no 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 ma io sono per l'allenamento l'imparare però non viene fuori dal come parli perché questo lo schede cioè questo il tuo dialogo interiore è questo qui il fatto che hai una buona gestione finanziaria per la mamma Shalha se ci avessi la mamma araba sperpereresti tutti i soldi cioè è questa la questione al netto del fatto che è vero che nelle comunità berbere c'è una cultura della sobrietà più accentuata questo è vero però non si può basare la propria vita su queste cose qui ok e niente per avere un po' di pace sto facendo quello che mi è sempre piaciuto ovvero continuare a studiare mentre lavoro full time ok finalmente qualcosa di qualcosa di positivo in questo messaggio ma a parte di scherze adesso io manderò questa diretta alla diretta interessata così capisce un po' però ragazzi vedete che qua il problema è cos'è sono allo stesso punto di partenza da anni pensa che i fattori siano esterni l'immobiliare il mercato la crisi l'Italia che non si può fare imprenditoria eccetera eccetera la verità è che e le cause sono tutte qui credenze dei potenzianti ma Enashur chiede fai consulenza sulle idee imprenditoriali quindi sì noi ne accadevi però è un corso avanzato ragazzi nel senso che prima bisogna fare cioè bisogna fare un precolloquio poi vi dico se effettivamente siete già a livello del percorso imprenditorio trascendentale o meno fino ad adesso ne ho presi tre direttamente per il percorso di imprenditoria e oggi il quarto una persona molto molto in gamba non che gli altri non siano in gamba però l'imprenditore cioè prima di fare gli imprenditori ragazzi c'è bisogno di tutta una serie di cose cioè dovete saper riuscire il vostro tempo le vostre energie la vostra produttività bisogna che ci sia una certa chiarezza una certa determinazione cioè non puoi buttarti a fare l'imprenditore senza aver lavorato tanto su te stesso ok oltre al fatto di avere una certa gavetta in un determinato settore eccetera eccetera ecco perché io di solito dico fate i percorsi diciamo sui fondamentali sono dei percorsi di trasformazione personale per diventare delle persone poi in grado di affrontare un certo tipo di sfide e poi si vanno sui corsi avanzati ok avanzati non vuol dire che gli altri si insegnano le banalità solo che sono livelli diversi da una parte si lavora sulle competenze specifiche proprio come si fa tecnico no dall'altra nei percorsi fondamentali si lavora sulla persona sulla mentalità sugli strumenti sulle strategie mentali sugli strumenti decisionali sull'autostima sulla produttività sulla capacità di pianificare e di passare all'azione cioè si lavora su queste cose nei percorsi fondamentali ok poi nei percorsi avanzati quando si dà per scontato che uno le cose ce le ha si va a fare l'imprenditore e per quelli che hanno idee imprenditoriali e pensano di essere in grado possono candidarsi poi però facciamo il precolloquio vediamo un po' dove indirizzarvi poi chiaramente siete liberi di scegliere il discorso cioè il percorso che facciamo noi è basato su tre pilastri da una parte facciamo tutta una parte di teoria imprenditoriale che è enciclopedico ragazzi cioè non esiste un corso in tutta Italia ed io posso anche dire in tutta Europa però non avendo visto quelli tedeschi non so non voglio non voglio scommettere però abbiamo proprio un percorso completo dal punto di vista di tutto quello che uno deve sapere dal punto di vista imprenditoriale e di strategie su come stare sul mercato su come battere la concorrenza su come entrare in maniera sensata sul mercato e poi proteggersi il fianchi sulla parte di gestione di risorse umane sulla parte dell'organizzazione eccetera eccetera no? posizionamento brand tutto quanto quindi c'è tutta questa grande parte teorica poi c'è la parte di allenamento che vi dicevo prima ovvero si vanno a prendere quelle competenze fondamentali che deve avere l'imprenditore ok? come la capacità di vendita come la capacità di promuoversi eccetera eccetera e le si allena su un progetto ok? sul progetto stesso e poi l'ultima parte è una parte di consulenza con me nel senso che prima vi prendete la vostra cultura imprenditoriale e attraverso quella elaborate la vostra idea e poi in consulenza andiamo a dare le ultime pennellate tra virgolette perché magari avete la teoria però io ci metto l'esperienza con tanti clienti e mettiamo in strada il business ok? quindi questo è un po' i tre pilastri del percorso imprenditor trascendentale se vi interessa candidatevi pure però vi avviso che non sempre cioè anche se vi candidate non vuol dire ci candidiamo allora vi dico sì cioè ci tengo ad avere il massimo della soddisfazione da parte vostra e dei risultati da parte vostra per cui può capitare che vi candidate però per quello però io vi dico guardate forse è meglio che fai un passo prima ok? però candidatevi info chioccio la strongbelieveracademy.com e lì verrete ricontattate lo staff e avrete tutte le informazioni e si potrà prendere una decisione consapevole insieme ecco come avete visto noi non abbiamo la roba del scrivi la spiegazione del corso clicca e compra e poi te la smazzi tu se fa per te o meno ma abbiamo una filosofia da preconsulenza in cui prima andiamo ad analizzare bene insieme la vostra situazione e poi eventualmente vi indirizziamo su un percorso rispetto a un altro grazie a tutti